il modello usato per le ebbe per compiere viaggi dimensionali siamo noi il loro creatore è qualcuno come noi il nostro corpo è il modello hanno tonto i capelli le orecchie perché non servono nei viaggi hanno lasciato un solo polmone il cuore è diverso il sistema digestivo pure hanno lasciato via tutto tutto ciò che non serve nello spazio hanno creato uno strumento meraviglioso se fossimo in grado di replicarlo allora anche noi potremmo viaggiare nello spazio più lontano grazie a tutti ci siamo chiesti sono qui per scelta o per caso ma per noi questo non conta così abbiamo deciso che nel caso fossero ostili noi dovevamo essere pronti loro vivono in un ambiente elettromagnetico e allora il laser e altre armi possono essere utili e allora questa è la strada che porta alla famosa Area 51 nel Nevada la base militare più segreta degli Stati Uniti si dice vi siano UFO e alieni vivi quanto abbiamo sentito dai numerosi testimoni qualificati e sconcertante sembra dunque esserci una politica segreta che sfugge al controllo democratico e che può rivelarsi molto controllo Oramai non si può più negare tutto, ma si deve affermare che qualche cosa di vero c'è sui cosiddetti fenomeni di cui si interessa l'ufologia. Quando ovviamente si parla di dischi volanti o altri nomi che vengono dati, è ovvio che l'argomento va subito, e va senz'altro se si tratta di veri dischi volanti come si intendono nell'ufologia, va subito a qualcuno che deve o guidarli dentro oppure anche a distanza, non so, c'è stato con un progresso che ancora ci è ignoto. E ammesso questo appunto si può pensare che hanno una scienza superiore, hanno fatto maggiori progressi di noi, anche la critica più severa oramai non può esaurire. Tutte le testimonianze che ci sono circa, sia gli avvistamenti e circa i cosiddetti fenomeni contattisti, di quelli che hanno contatto con extraterrestri. E come anche questo va ammesso oramai, i contattisti, non è che tutti sono fanatici, no, no. E fuori da un ragionamento, dal buon senso, dal senso comune, pensare che tutti quelli che sono i cosiddetti avvistamenti, eccetera, siano tutte fandonne, suggestione, psichiatria, oppure siano anche armi segrete. Sì, certo, la prudenza deve essere grande, ma insomma, oramai il buon senso dice che anche la critica più severa non può esaurire la moltitudine crescente. Poi se si parla, ma da chi è costituita questa moltitudine? Ma non solo dalla gente comune, ma ci sono scienziati, ci sono persone colte, ancora più di scienziati, per fare una graduatoria, ci sono persone colte, ci sono conduttori, piloti di aerei particolari, che loro molti ma altri, eccetera, che raccontano quello che hanno avvenuto. E tra le persone colte, i scienziati, ancora più a ragione tra quelli che hanno visto, erano increduli, sono partiti senza credere questo. Anche loro dicevano che fandonne, eccetera, e poi si sono ricreduti. E questo è un peso che deve essere appunto considerato nell'affermazione che dico io, che ormai è il senso comune, che ci dice che qualcosa di vero ci deve essere. Non è tutta una fandonia e non tutto si esaurisse in fenomeni atmosferici, non tutto si esaurisse in armi segrete. Dunque, non solo è possibile, ma è anche verosimile. La vera somiglianza è dovuta al fatto, anzitutto, perché qui farò due considerazioni, è dovuta al fatto che tra noi, quali sono gli esseri esistenti? Siamo noi, gli angeli e Dio, noi vivi o defunti? Cioè, noi, composti di anima e di corpo, di materia e spirito, gli angeli, che sono solo spirito, e i defunti, che si chiamano spiriti separati. Quindi, ma è possibile che tra noi, essere composti di anima e di corpo, e tra gli angeli, che sono solo spirito, solo anima diremmo, ma sono solo spirito, ecco, ma è possibile che non ci siano altri esseri, che io li vedrei intermedi tra noi e gli angeli. Possibile che non ci siano altri esseri, i quali esseri, in altri mondi, in altri pianeti, altri esseri che sempre saranno composti di spirito e materia, ma in una condizione diversa dalla nostra. Magari che sentono a parità la tendenza verso il male e il bene, addirittura, magari altri ancora, perché non è detto che ci sia solo un tipo di esseri, io penso che ce ne saranno tanti di questi esseri in altri mondi, e magari ce ne siano ancora di quelli che addirittura sentono più facilità a fare il bene che a fare il male. se questi esseri sono superiori a noi in questa unione tra anima e corpo, cioè un'anima più libera di agire, non influenzata come la nostra al punto che di per sé l'uomo, persone più portato al male che al bene. se sono superiori a noi, possiamo pensare, ecco perché è augurabile, che ci aiutino, ma ci aiutino nel campo della spiritualità, nel divenire più buoni. Ho potuto trovare queste due testimonianze di Padre Pio in un libro che è intitolato Così parlò Padre Pio. Ecco, così parlò Padre Pio. Certi dettagli li dirò a lei. Dunque, gli fu chiesto, Padre, dicono che negli altri pianeti ci sono creature di Dio. Risposta di Padre Pio. Lo leggo perché qui è bene proprio citare la parola testuale. E che, vorresti che non ci fossero? Che l'onnipotenza di Dio si limitasse al piccolo pianeta Terra? E che, vorresti che non ci fossero altre creature che amano il Signore? Ecco il Santo. Un'altra domanda. Padre, ho pensato che la Terra è un niente di fronte agli astri e a tutti gli altri pianeti. Risposta di Padre Pio. Eh sì, e noi, usciti dalla Terra, siamo un nulla. Il Signore non avrà certo ristretto la sua gloria a questo piccolo pianeta. E prosegue. In altri ci saranno degli esseri che non avranno peccato. Ora, grazie. Grazie.